Buongiorno, sto inquadrando questo titolo di articolo a passo su Repubblica e intanto faccio passare un attimo di tempo per chi ha piacere di collegarsi. Prendo spunto da questo che è un articolo apparso da poco su Repubblica, quindi è un giornale piuttosto prestigioso, ma questo in realtà è solo l'ultimo di tanti articoli che periodicamente ormai da anni escono nella stampa, nei siti, su internet, se ne parla la radio, eccetera. Quindi questo articolo prende spunto da uno studio di 27 ricercatori di varie università molto prestigiose, internazionali e dice che per quanto riguarda l'Italia, se nel 2050 fossimo alimentati con le energie rinnovabili, gli italiani risparmierebbero 6 mila Euro a testa all'anno, si risparmierebbero quasi 50 mila morti all'anno dovuti naturalmente all'inquinamento causato principalmente dalle industrie del settore del fossile, petrolio, gas, carbone, tutti i morti collegati all'inquinamento dell'aria soprattutto e dell'acqua e si creerebbero mezzo milione di posti di lavoro. Ripeto, qui parliamo di 27 ricercatori di università estremamente prestigiose come Stanford, Berkeley, Berlino, Raus, quindi un lavoro fatto a livello internazionale, uno studio, vi metterò il link alla fine della diretta, direi decisamente corposo, io ci ho dato solo una rapida occhiata, ma ve lo faccio vedere, sono 200 pagine di studio, vediamo se riesco a inquadrarvi, ecco qua, sono 200 pagine di studio con decine di grafici, di formule, di calcoli, vedete tabelle, calcoli, formule, c'è di tutto su questo studio, quindi fatto molto bene, ma in realtà io ve lo ribadisco, è l'ennesimo studio, è l'ennesimo studio che ribadisce come la transizione dalle energie fossili dalle energie rinnovabili è fattibilissima e comporta enormi benefici, anzi prima la si fa e prima si guadagna, perché i risparmi ottenuti sono tali che in poco tempo si ammortizza l'investimento, il costo della transizione e dopodiché appunto è tutto guadagno, quindi vi metterò link anche ad altri studi, vi metterò anche altro materiale, però l'importante, io lo ribadisco, mi rendo conto che sono concetti che molti di voi conoscono perfettamente, li hanno sentiti più volte e non è assolutamente una novità, però lo ribadisco perché anche in questo caso appunto viene pubblicizzato da una rivista, da un giornale quotidiano importante come Repubblica, quindi è importante diffondere a tutti i cittadini ed è importante che poi i cittadini si rivolgono alla politica in questo senso. Questo studio ha preso in esame 140 paesi al mondo, ha preso in esame trasporti, riscaldamento, raffreddamento, industria, agricoltura, foreste e pesca e un aspetto particolare che voglio sottolineare di questo studio, quindi freschissimo, quindi recentissimo, è che l'80% del risultato si può raggiungere già al 2030, questo studio afferma che l'80% del consumo energetico può essere già rinnovabile al 2030. Ora sempre della serie notizie tra virgolette vecchie, nel senso risapute, adesso se lo recupero vi mostrerò un altro studio, ve lo metterò come link, di un'università di New York, è un pelino più vecchio, che è ancora più ottimista, si spinge ancora più avanti e dice che addirittura il 100% potremmo raggiungere entro il 2030, quindi la questione è sempre quella, tecnicamente si può fare, economicamente, finanziariamente si può fare ed anzi è a saldo positivo, si guadagna, si risparmia, la problematica è solo politica e come noi del 5 Stelle ripetiamo da molti anni non c'è solo la transizione energia fossile, energia rinnovabile, questa è una delle principali certamente, ma c'è anche tutto il lavoro dell'efficienza energetica, quindi in buona sostanza il rifacimento, la sistemazione, la ristrutturazione degli edifici, il famoso ecobonus, la detrazione fiscale per mettere il cappotto agli edifici, cambiare i serramenti, cambiare il sistema termico passando dalle normali caldaie alle pompe di calore, tutti quegli interventi che appunto permettono di annullare il fabbisogno energetico degli edifici, lo ribadisco soprattutto per i nuovi amici, quelli che mi hanno chiesto l'amicizia nell'ultimo mese, paesi decisamente più freddi come il Belgio riescono in un giorno di lavoro, perché preparano prima tutte le parti da assemblare, riescono in un giorno di lavoro a efficientare un condominio portandolo a consumo zero e stiamo parlando del Belgio, quindi un clima per carità non è il Polo Nord, però già decisamente più fresco, più freddo rispetto all'Italia, quindi le soluzioni tecniche ci sono e anche questo creerebbe in Italia centinaia di migliaia di posti di lavoro, perché voi capite bene, abbiamo 17 milioni di edifici costruiti di età molto avanzata che vanno ristrutturati, voi capite bene che per intervenire su 17 milioni di edifici c'è bisogno di centinaia di migliaia di posti di lavoro che in questo caso non verrebbero presi dai robot, i robot ci possono aiutare decisamente a preparare i materiali, a preparare gli assemblati poi da installare, ma per la fase finale c'è sempre bisogno comunque della presenza umana, anche solo per verificare, posizionare le macchine, fare i lavori più puliti e poi lasciare che le macchine facciano il resto, di questo ve ne avevo parlato, chi a piacere trova un video, due mesi fa partecipando a un convegno sulla zona del Garda in cui si parlava dei miglioramenti dell'edilizia cosiddetta off-site, cioè l'edilizia che si prepara prima in fabbrica, si prepara prima in fabbrica, si preparano tutti i moduli, poi come un po' con il gioco di costruzioni, i Lego, i mattoncini, si va sul cantiere e molto velocemente si assemblano questi pezzi già preparati prima, qui i progressi sono impressionanti, chi a piacere trova un mio video appunto di un paio di mesi fa intitolato edilizia off-site, tutti i progressi appunto dell'edilizia. Quindi dicevo, questo articolo mi dà l'ennesimo aggancio per ribadire come si creerebbe mezzo milione di posti di lavoro solo per il settore energetico e non lo diciamo noi 5 stelle, in questo caso ribadisco sono 27 ricercatori di prestigiose università internazionali, mezzo milione per il passaggio alle energie rinnovabili, mezzo milione decisamente prevedibile per il passaggio all'efficienza energetica soprattutto nel settore edile, ribadisco 17 milioni di edifici che possiamo tranquillamente, di cui possiamo tranquillamente dimezzare il consumo energetico ma anche azzerarlo, sempre con la premessa che quando mettiamo le mani sull'edificio dobbiamo farlo anche irrobustendolo strutturalmente per renderlo maggiormente antisismico, questa è una cosa che ripeto sempre, ribadisco per l'ennesima volta, nel momento che io apro un cantiere su un edificio, anziché fare due lavori separatamente prima uno e poi l'altro quindi diciamo così raddoppiare le spese anche infrastrutturali, facciamo un cantiere unico, efficientiamo l'edificio con il cappotto, con le doppie finestre, con la pompa di calore ma rendiamolo anche più stabile, qui in Italia abbiamo questa esigenza assoluta, non è possibile che succedano terremoti del quarto grado e comportino disastri come è avvenuto recentemente a Ischia, in generale comunque purtroppo è presumibile che avremo terremoti più intensi, abbiamo l'Italia una zona sismica e non possiamo nascondereci dentro un dito, al contrario dobbiamo agire e appunto irrobustire gli edifici, quindi ha ulteriori posti di lavoro anche per la fase di irrobustimento degli edifici. Poi abbiamo, l'ho detto e ribadiamolo, tutto il discorso del passaggio dalla chimica, dalla petrolchimica, dalla petrolchimica quindi lacche, colle, gomme, vernici, solventi, plastiche, tutte derivate dal petrolio, a invece una chimica basata su biomassa, cioè io posso assolutamente ricavare le stesse sostanze, colle, lacche, vernici, resine, plastiche, eccetera, partendo da biomassa, oli vegetali, scarti del legname, tutta una serie di materiale bio e quindi il prodotto è biodegradabile, assolutamente al contrario di quello che è adesso, uno dei principali problemi mondiali, quindi il fatto che abbiamo mezzo mondo da bonificare, perché abbiamo colle, lacche, plastiche, vernici, solventi, detergenti, oli sintetici e miliardi di tonnellate all'anno di plastiche che finiscono in acqua, finiscono in mare, finiscono nel ciclo alimentare, eccetera, eccetera. Quindi solo questi tre tasselli ci creano centinaia di miliardi di posti di lavoro, in Italia abbiamo anche per la nostra conformazione geografica, abbiamo anche, lo dicono i forestali, lo dicono le associazioni di forestali, abbiamo anche 400 mila posti di lavoro, se ricominciamo recuperiamo il patrimonio boschivo, lo dobbiamo fare per esigenze di sicurezza idrogeologica, adesso attenzione arriviamo in autunno, tra poco arriverà l'autunno, arriverà l'inverno, arriveranno le piogge temporali, le bombe d'acqua e sappiamo purtroppo per esperienze decisamente negative, frane, smottamenti, alluvioni, quindi dobbiamo farlo anche per la sicurezza idrogeologica, ma lo dobbiamo fare anche perché dalla biomassa del legno, come stanno facendo Finlandia, Canada, altri paesi all'avanguardia, possiamo ricavare tanta biomassa non solo per scopi energetici, ma soprattutto per scopi manufatturieri e per l'ennesima volta ribadisco che gli ambientalisti non devono preoccuparsi perché parliamo sempre di non diminuire il patrimonio boschivo, ma di utilizzare solo l'accrescimento annuo, di utilizzare l'accrescimento annuo, ribadiamo che in Italia dal dopoguerra ad oggi i boschi sono raddoppiati, siamo in situazione però che molto patrimonio boschivo non è curato adeguatamente, non è manutenuto adeguatamente e quindi non fa nemmeno la sua funzione, quindi abbiamo centinaia di migliaia di posti di lavoro che possiamo creare da queste conversioni, ovviamente solo un passaggio velocissimo per il discorso del riciclaggio rifiuti, in Italia facciamo un discreto riciclaggio ma possiamo fare ancora molto meglio, soprattutto per i rifiuti elettrici ed elettronici che ricicliamo solo in parte, ricicliamo solo in parte ed è un enorme peccato perché i rifiuti elettrici ed elettronici contengono moltissime materie prime e secondarie che possiamo riutilizzare risparmiando, semplicemente è un mero risparmio economico e ulteriore creazione dei posti di lavoro, abbiamo pochi centri di riciclaggio dei grandi elettrodomestici, quindi anche qui abbiamo ampi margini di miglioramento. Ecco, questi sono solo pochi cenni, vi giro un documento con riassunti questi concetti e qualcosina in più e mi sono permesso di rispiegarveli dal momento che oggi Repubblica.it Repubblica pubblica questo articolo per chi si fosse connesso più tardi, lo faccio rivedere, questa è la pagina web di Repubblica.it, quindi ribadisco questa affermazione, è l'ultima di tante. Per chi vuole approfondire vi lascerò anche il link del mio sito personale Tracce in cui c'è riassunto il libro 2C, 2 gradi centigradi, il libro che descrive in maniera molto precisa e attuale, quali sono le tecnologie appunto attuali, i prodotti attuali che già oggi stanno consentendo a tante parti del mondo di fare quello che io adesso vi ho annunciato che noi vorremmo fare se fossimo al governo. Io questo libro ve l'ho video riassunto, quindi ve lo potete ascoltare con le cuffiette mentre siete in treno, in metro, in bicicletta, a casa che fate magari le vostre faccende domestiche, vi consiglio sempre di leggerlo, di diffonderlo perché è un libro totalmente realistico, non stiamo parlando di ipotesi, in questo libro si descrivono le tecnologie attuali e quelle che arriveranno nel prossimo futuro che sono assolutamente sul traguardo di arrivo come per esempio le auto elettriche, ci sono già ma aspettiamo solo un ulteriore calo dei prezzi e quindi avete già una ottima idea di quello che saranno le tendenze future, quindi come al solito se poi riterrete interessate queste informazioni vi chiedo di condividerle, ma come sempre è importante che ne parliate tra di voi, che ne parliate in piazza, bisogna spegnere la tv, tornare a parlare in piazza, tornare a confrontarci, andare nelle associazioni, andare nei gruppi di acquisto solidale, andare in tutti i luoghi in cui si discute, si crea, si fa società, si fa politica nel senso lato del termine, si fa associazionismo, quindi ribadisco entrate nei gruppi di acquisto solidale e se volete contrastare le grandi multinazionali che dettano il nostro stile di vita, sceglietevi voi i fornitori, sceglietevi voi i fornitori, vi linko la mia solita pagina con le alternative etiche e sostenibili rispetto alle banche, alle assicurazioni, alla compagnia elettrica, tutte cose di cui ho già parlato per cui non mi ripeto. Grazie a tutti, buon pranzo, buon pomeriggio, buona giornata.